In nomine Patris, Figlio e Spirito Santi, Amen. Signore Gesù ci mettiamo nella presenza di una presenza come ogni giorno, grati per questo dono, umilmente riconoscendoci indegni e peccatori di tutto e umilmente chiedendoti perdono delle nostre miserie ed assistenza dello Spirito Santo in questa meditazione. E lo smelos il protocorde penitit me, omnium eorum peccatorum, e acque detesto che peccando non solo un pena satigius e statuta spromeridus sum, set presenti che io fenditi sum, un buono mattinio qui, super omnia dirigaris, idio, firmiter, profono, adiuvante, grazie a tua, tecetero, menon peccatorum peccandico, occasione prossima, sfuggitorum, Amen. Veni creator spiritus, mentestorum visita. Imple superna grazia cui tu creaste i peccatori, lice risparaticus donum Dei Altissimi, fons vivus ignis calitas espiritualis ungs, tu septiformis moned, rigidus paterne dextere, currite promissum patris, sermone litem scutture, accende lumen sensibus, infunde amoren cordibus, infirma nostri corporis virtute firmas perpeti, hostem repella slongius, facenque dones protimus duttore, sicte previo, vitemus omne noxium, per te sciamus da patrem, os camus atque filium, tecotreusque spiritum, credamus omni tempore. Deo patrisi gloria, quiro che ha morto is surrexit a parafile, in secolore un secola, Amen. Emite spiritum tu, e tria bulbu, e tria nomi, spaci in terre, Dalla vita interna di Gesù Cristo e di Sor Maria Cecilia Abai, Libro II, Capitolo IV, Gesù a Nazareth, di Moragon Maria Santissima e San Giuseppe, e ciò che opera nel suo interno, fino alla morte di San Giuseppe. Parte VI, Consolazione All'Egrezza di Gesù e di Maria, la Consolatrice degli Affitti, la Gioia di Giuseppe e di Maria. Ringraziai il Padre mio di quanto si sarebbe degnato di concedere a tutti i miei fratelli, specialmente per le grazie che avrebbe dato a tutte le anime giuste. Con molto affetto lo ringrazio per queste, perché erano da me molto amate. Vedevo che anche il Padre mio si sarebbe compiaciuto molto di esse, e con molto gusto avrebbe abitato nelle anime loro per mezzo della sua grazia. Sentivo molto gusto nel vedere i favori e le grazie che il Padre mio avrebbe concesso alle anime che lo temono e lo amano. gli offrivo questa mia consolazione in supplemento di tutte quelle anime che vedendo favorita qualche anima dal Padre mio arricchita di sue grazie, piuttosto ne sentono di spiacere, invece di goderne e ringraziare anche se il Padre è il Padre Celeste. Siccome a me e al Padre mio molto dispiace la passione dell'invidia, che acceca e fa schiave molte anime, procuravo con le mie suppliche presso il Padre mio che fosse stirpata completamente da ogni cuore e che per mezzo della divina grazia e della sua luce l'invidioso potesse arrivare a conoscere questa passione e combatterla fino a godere molto di vedere il suo prossimo favorito da Dio, come se quel bene fosse suo. Ma per quanto io offrissi e pregassi per questa grazia e per questa luce, non potei ottenere dalle creature ciò che ottenni dal Padre. Il Padre non mi nega la grazia e la luce necessaria per ciascuno. I miei fratelli mi negano ciò che io da essi tanto bramo, che è di godere del bene spirituale del prossimo e del loro. Perché ha un bene del tutto perfetto e santo. Infatti io soffrivo perché la maggior parte dei miei fratelli avrebbero operato non conforme al mio desiderio, cioè alla luce e alle grazie che io a loro ho meritato, ma come dettavo a loro l'amor proprio e le loro passioni sregolate e dominanti. Mi consolavo però nel vederne alcuni che si sarebbero serviti della luce e delle grazie che io a loro meritavo ed avrebbero assecondato i desideri del mio cuore. Era tanta la consolazione che questi mi portavano e spesso rivolgevo lo sguardo verso di loro e amorosamente li stringevo nel mio petto. Li raccomandavo caldamente al Padre mio e determinavo di far loro gustare la dolcezza e suavità del mio spirito. Li guardavo come fratelli a me carissimi, figli diretti del Padre mio, e con essi molto mi consolavo, addolcendo quell'amarezza e disgusto che provavo per tutti gli altri fratelli trascurati e disubbidienti alle leggi del mio divino Padre. I giusti hanno sempre portato consolazione e allegrezza al mio cuore, mentre i colpevoli l'hanno sempre disgustato ed amareggiato. Eppure il mio cuore mai si adirò contro i colpevoli, ma sempre pregò per essi ed amò ardentemente il Padre in supplemento di quell'amore che così ingiustamente gli nega. Pregavo il Padre mio di dare ai miei fratelli un simile sentimento, cioè un cuore, tutto amore e carità verso quelli che portano loro disgusto ed amarezza. E che per questi non solo preghino il Padre mio a perdonati, ma che procurino anche di amare Dio ardentemente per suppire con questo amore il disgusto che quelli che li portano. Mi promise il Padre mio di adempiere la mia richiesta e mi fece vedere come l'avrebbe seguita fedelmente. Mi fece vedere anche come ciò si sarebbe adempiuto per pochi, perché la maggior parte vuol seguire le proprie passioni che non avrebbe accolto quella grazia che avrebbe loro concesso il Padre mio. Essendo per questo io afflitto come al solito, non mancavo però di ringraziare il Padre della grazia concessa, benché per molti fosse inutile, perché non volevano approfittarsi di aiuti così validi e mezzi così potenti. Dopo aver ottenuto tutto ciò che avevo richiesto al Padre mio, andavo dalla mia diretta madre e manifestavo l'allegrezza del mio cuore, perché dopo la conversazione di qualche peccatore restavo molto consolato. Sebbene lei del tutto penetrasse con il suo spirito ed anche lei ne godesse, si accresceva molto più la sua consolazione alla vista di me e al sentire le mie parole molto spesso la facevo partecipe di questo godimento come era partecipe delle mie pene e delle mie angustie che il mio cuore andava spesso provando per l'ostinazione dei peccatori, per vedere il Padre mio da essi tanto offeso e disonorato. Giuseppe non comprendeva tutto questo ma si accorgeva della mia mestizia o della mia consolazione perciò ricorreva umilmente alla diretta sposa per conoscere il significato temeva molto nel vedermi triste dubitando di avermi disgustato ma la diretta madre gli spiegava qualche cosa per sua consolazione per togliergli quel timore che gli feriva il cuore ma lo facevo io con Giuseppe perché volevo che la mia diretta madre sin da allora divenisse consolatrice degli afflitti avendo chiesto al Padre mio questo privilegio per la mia diretta madre di essere lei la consolatrice di tutti gli afflitti chi desidera di essere consolato ricorre a lei perché le ho dato nelle mani la libertà e il potere di consolare chiunque a lei faccia ricorso e l'accettò volentieri questa carica conoscendo che questa era la volontà del padre e mia e non manca ne ha mancato mai di esercitarlo ottimamente infatti non vi è stato né vi sarà alcuno che facendo ricorso a lei con fede non resti del tutto consolato lo davamo il padre mio insieme per tutte le grazie che mi concedeva per i miei fratelli e in queste rodi si infervorava molto lo spirito di Maria dando sempre più gusto al padre mio e da me e vodeva molto anche il suo sposo Giuseppe e spesso penetrava le gioie del suo spirito come sposo lei carissima era tanto il godimento di Giuseppe nello stare alla presenza della madre sua sposa che gli avrebbe fatto la perpetua dimora non si soffermava però molto in questo desiderio perché già conosceva essergli riservato un godimento assai maggiore che era la visione di Dio questa conoscenza le dà assai chiara per il rapporto che aveva con me così familiare stando quasi sempre alla presenza del sole divino ne veniva molto illuminata e per questa luce ben capiva quale sarebbe stato il suo godimento quando dovrebbe contemplare la faccia svelata in questo modo di vivere passavano i nostri giorni quali sembravano alla diretta madre di Giuseppe molto brevi per la consolazione che avevano di stare in mia compagnia riconoscevano così bene la loro fortuna che spesso genufesi a terra mi rendevano affettuose grazie al padre mio e a me mi dicevano l'obbligo che avevano verso il padre mio per avermi dato loro in custodia e da me perché mi degnavo di stare con loro e molto più perché io ho loro sottomesso allora anche io li animavo e li aiutavo a ringraziare all'eterno mio padre ed essi ne vodevano molto sapendo che i miei ringraziamenti erano di grande valore verso il padre e con essi poter restare appagato e soddisfatto per tutto quello che adesso aveva elargito laudentur jesus et maria cominciamo questa meditazione ecco dalla dolente nota con cui oggi gesù esordisce in maniera anche molto chiara molto esplicita su un brutto peccato e un brutto vizio capitale molto diffuso e molto frequente ma vi assicuro non sono unico a dirlo quasi mai confessato come molti peccati per la verità spirituale e vizi spirituali difficilissimo sentire accusati l'invidia avarizia attaccamento ai soldi qualcuno dice qualcosa sulla superbia per termini molto soft anche quella è una brutta bestia qualcuno dice qualcosa sulla vola quando ci sono delle cose grossolane anche la cidia la cidia non è la semplice pivizia è il tedio delle cose di Dio il tedio delle cose spirituali quindi la nausea e quindi la negligenza da riempire i nostri doveri di culto di orazione di preghiera che abbiamo verso il Signore quindi penso che la prima cosa che dobbiamo fare è certamente un po' di buon esame di coscienza perché il primo obiettivo da raggiungere nella nostra vita interiore è confessarci spesso ma il secondo obiettivo è di confessarci possibilmente bene quindi non semplicemente dicendo le solite comuni cose che anche nei peccati piccoli sono un pochino più evidenti grossolane e quasi sicuro se uno confessa la distrazione nella preghiera di sicuramente è confessato un peccato che certamente ha commesso anche di certo bisogna vedere che se sono involontarie il peccato veniano inevitabile lo chiamava Sant'Alfonso o volontarie quindi quelle volontarie certamente sono evitabili ecc ora fermandosi sull'invidia l'invidia è un peccato bruttissimo e qui e praticamente poi assume tra l'altro la connotazione molto brutta di un peccato contro lo Spirito Santo guardando l'invidia non è dei beni altrui anche questo quanti sono invidiosi dei beni anche materiali altrui sentono che se vedono c'è un sacco di soldi c'è la bella macchina c'è queste cose qui Dio lo benedica appena da lui è finito io mi accontento di quello che c'è ringrazio il Signore quindi si finisce dalla missione come dicevo le brame le cose gli accidenti insomma le forme grossolane che andassero tutti i soldi a medicina insomma quando uno dice così questa espressione qui non è un peccatuccio da nulla perché insomma già è bella pesante ma la connotazione peggiore e qui nessuno si scandalizzi ma in certi ambienti anche presiali capirai il mio della grazia altrui secondo me è una persona che ha ricevuto dei toni da parte del Signore dei carismi oggettivi innegabili e anziché rallegrarti come se fosse le voglie ringraziare al Signore gli ha dato delle cose così potrà fare un sacco di bene al prossimo uno comincia a invidiarle nella Bibbia ci abbiamo Saulo è stato rosso dall'invidia il re Saulo proprio rosso ed è morto con questa passione che l'ha rosso ha cercato di uccidere per questo per l'Emilia si uccide quando la si è seconda ha cercato di uccidere Davide almeno due volte sicura a mia memoria forse tre come si legge nel libro di Samuele ma il nostro Signore Gesù Cristo uno dei Vangeli quando parla della passione che portano giù il Pilato dice sapeva bene che glielo avevano consegnato per invidia e guardate che attenzione adesso questa non è una catechesi però una cosa la devo dire forza come tutti i nostri peccati tutti i nostri vizi sono tutti ammantati queste sono operazioni diaboliche però noi secondiamo sotto altri pretesti cioè quando non invidia la grazia altrui che cosa fa comincia a guardare incagnesco la persona quindi con sguardo indagatore eccetera eccetera e va o a cercare bene nel luogo o anche a vedere o anche a stigmatizzare dei difetti magari reali oppure c'è un'altra operazione particolarmente schifosa e becera questa un pochino più raffinata ma è veramente inqualificabile che l'andare a aprire gli armadi dove tutti ci portiamo un po' di scheletri io quante persone stanno direto 84 persone ecco comincio a fare subito un invito se qualcuno non c'ha scheletri nell'armadio cioè nella propria esistenza cose che avrebbe voluto mai fare e magari a volte c'è caduto in buona fede o cose di questo genere ma che sono certamente non belle quindi che se fossero sapute porterebbero evidentemente una notevole diffamazione oggettiva e a volte gli invidiosi tirano fuori gli scheletri se ne vengono a conoscenza o se ne sono a conoscenza tirano fuori gli scheletri nell'armadio per distruggere la persona per farle perdere credibilità chi è che confessa queste cose sapete sulla confessione c'è stato il sigillo ovviamente no ovviamente sulla persona e sulla spesa dei peccati ma a me sono come da dire guarda io per invidia ho diffamato una persona andando a rivelare uno scheletro nell'armadio che c'aveva vabbè io ho l'alzheimer poi grazie a Dio ne dimentico tutte le confessioni quindi l'alzheimer ovviamente io ci scherzo su questa cosa nel senso che la tenda d'argilla sovraccaricata da molti pensieri purtroppo fa un lavoro continuo di scelta delle informazioni primarie e di quelle secondarie come fanno i nostri dispositivi e siccome le informazioni sono una caterva ne seleziona poche e si rifangono come primarie e tutte le altre cadono nel centro notifiche cioè nel dimenticatoio però io non ricordo cosa bruttissima questa qui basti pensare a un po' di storia della chiesa c'è un esempio emblematico no che era padre Pio cioè ma non solo ci stanno anche i discepoli di padre Pio pensate Don Donno Rindo Ruoto non so quanti anni è stato forse 18 senza celebrare la messa e Don Attilione Grisolo io sul mio canale youtube sul mio sito ci sono appunto prima alcune bellissime catechesi introvabili in mp3 ovviamente di Don Donno Rindo Ruoto che è un gigante di santità bloccato anche il suo processo di di beatificazione ma tanto quello sta salgamente beato in cielo e poi c'è Don Attilione Grisolo quello c'è stato dieci anni senza dire la messa grande peccato che Don Attilione Grisolo essere molto devoto ad essere aver capito chi era padre Pio e quindi essere suo figlio spirituale e seguirne gli insegnamenti anche quegli insegnamenti che per la loro particolare severità evidentemente attirano i riflettori e una volta che tu c'è i riflettori puntati alla fine specialmente con certe purtroppo chiamiamole così no chiamiamole così sono autorità che guardano quei riflettori e che quindi dopo cominciano a perseguitarti contro padre Pio fu fatta proprio una persecuzione in grande stile e anche contro questi sacerdoti tanto per fare qualche esempio che cosa era mossa in realtà cioè con padre Pio ci furono delle cose grossolane c'è chi disse che si era fatto venire le stigmate perché era una mente impressionabile non so lì a lo psicologico come si chiama questa cosa quindi se tu cominci a pensare a pensare che ti che ti sforzi no diceva le stigmate le stigmate le stigmate c'è quell'altra un pochino più un po' più un po' più un kitsch tu pensa che c'è un sacco di soldi che c'è un sacco di soldi che c'è un sacco di soldi tu pensa ci pensa tutte le monete le banconote sentitele in mano no poi vedi se ci vengono no cioè questo perché poi la follia umana e questo cioè chi diceva queste cose le diceva dall'atto della sua carta della scientifica queste sono affermazioni scientifiche questo purtroppo è sempre così amici cari perché l'invidia si nasconde dietro speciosi pretesti se quello se fosse guardato allo specchio dice ma dai e dire la verità perote che questo c'è tutta questa gente che gli sta dietro che ha le messe sue ci stanno duemila persone pure se sta tre ore a dire la messa e tu quando c'è invece vengono du gatti e dire la verità dittela più facile no così ti liberi e la facciamo finita con queste commedie no se uno vuole in video io ci ho potuto di scrivere l'enciclopedia su cose molto molto più piccole ma i sacerdoti specialmente in cura d'anima non solo sanno benissimo gli entourage i collaboratori le guerre dei roses sono nulla quindi nelle parrocchie ci stanno le guerre ah ma a me lui mi ha detto che devo mettere a posto l'altare quindi se qualcuno sta vicino all'altare guarda soltanto perché stiamo in chiesa se no ti fulmino non dico con con lo sguardo tutta una fulminata le robe del genere oppure i collaboratori io faccio questo a me mi ha dato da gestire questa cosa io sono responsabile per le linagia io sono responsabile del caspita ne so che cosa dei campi estivi è una brutta bestia purtroppo l'invidia brutta per approfondire questi discorsetti c'è il mio buscoletto piccolo ma credo denso che è sui sette vizi capitali che però possa aiutare a riflettere un po' su questo e anche sugli altri vizi è però la reazione che si deve avere dinanzi all'invidia è importante dice Gesù lui si addolorava dice lui si addolorava tanto di questo qui ma si addolorava ma non si adirava quindi il dolore è sempre recito perché non è bello sentirsi oggetto di di certe male passioni ma l'ira mai non si può e non ci si deve arrabbiare amore e carità verso quelli che portano loro disgusti e amarezza e quindi pregare non solo il padre di perdonarli ma che procurino anche di amare Dio ardentemente per supprire al disamore di questi che anziché amare Dio stanno a pensare a perseguitare i suoi umili e devoti servi abbiamo altre due bellissime ecco stavolta un po' più consolanti fonti di meditazione Maria Consola dice degli afflitti la nomina celeste ci ha avuto oggi ci ha rivelato Gesù noi lo angolichiamo tutti i giorni con la consola degli affitti nelle lauretane la madre della consolazione e ci ha avuto una nomina e Gesù non interveniva a consolare personalmente Giuseppe perché vorrei che lo facessero male e siamo sotto questa promessa quindi provare per credere non vi è stato ne vi sarà alcuno che facendo ricorso a lei con fede non resti del tutto consolato ancora chi desidera essere consolato ricorra a lei perché l'ho dato nelle mani la libertà e il potere di consolare chiunque a lei faccia ricorso a noi la scelta e le angustie di San Giuseppe erano le angustie delle anime sante queste bisogna sempre un pochino controllarle perché non degenerino in gli scrupoli ma quella quell'angustia era magari fossimo angustiati sempre solo per questo pensava di aver dispiaciuto in qualcosa il Signore un santo vero lo pensa sempre perché ricordatevi che i santi veri non pensano di esserlo assolutamente e non sanno né pensano né tantomeno sanno di esserlo ci sono dei passaggi degli scritti di Maria la torta meravigliosi dove Gesù stesso loda la comunità di Maria mi ricordo un passaggio praticamente Maria stava dicendo che per lei non c'è la differenza basta che si serve il Signore tra quando stava nel tempio e quando stava facendo la donna di casa e mentre Gesù racconta questa cosa c'è una parentesi che dice e qui senza saperlo si è data la rote più grande ma figuriamoci se la Madonna ci vuole rodare no? perché si è data la rote più grande perché ci vuole grande santità per per me è uguale sto nel tempio quindi so fare la monica di clausura sostanzialmente o sto dentro casa a cucinare a cuivire la famiglia non fa niente basta che quello che sto facendo adesso è quello che Dio vuole non conta quello che si fa ma conta perché per chi si fa come si fa però lei non sapeva che questa era grandissima santità adesso è una cosa dice ho fatto mezza parla che devo fare cioè stavo nel tempio poi se si è andato chiamato a uscire ma l'autosporto di San Giuseppe è venuto l'arcangelo che è bene ha fatto l'annunciazione che devo fare cioè nella santissima testa sua appareva tutto normale tutto normalissimo perché per i santi questo le cose funzionano così quindi non sanno di esserlo e anzi non solo non sanno di esserlo temono e l'abbiamo già visto anche in Maria non dico di offendere Dio no perché offendere Dio vuol dire fare un peccato però sapete che Dio non soltanto si offende col peccato possiamo anche fare una cosa che magari non gli piace tanto non gradisce tanto no è quella che può essere appunto un'imperfezione o semplicemente una cosa che non intercetta quello che è un suo volere attuale e di questo i santi ci hanno paura più che paura è il timore no timore che gli feriva al cuore perché per questi personaggi se Dio non voglia fosse vera una cosa del genere e lo venissero a sapere c'è un salmo che dice i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare ecco quelli comincerebbero a fare proprio cioè il lacrimatorio incessante morirebbero di dolore forse ecco quindi specialmente questi devono andare dalla consola dice degli afflitti a a esporre perché magari tutte le sofferenze fossero soltanto queste qui no magari temo di aver disgustato il mio signore questo è buon divertimento se qualcuno ha queste sofferenze sempre perché siano vissute bene perché dopo se diventano scrupoli diventano dannose per 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 l'anima e poi e poi e poi c'è il godimento di Giuseppe non stare nella presenza della madre dice sulla sposa che avrebbe qui c'è un flash su San Giuseppe no chi avrebbe matto la sua perpetua di mora è te credo e poi però il signore lo distoglieva da questo pensiero dice ma no guarda che a te ti aspetta il paradiso ci ammazza il paradiso allora ancora meglio no ecco la vita questi questi spaccati di vita della famiglia di Nanza bellissimi no il signore ci squarcia qualche qualche velo dice in questo modo di vivere passavamo i nostri giorni i quali sembravano molto brevi e certo sapete quando è che i giorni sembrano brevi sembrano brevi i giorni lieti quando noi facciamo qualcosa di bello passa presto il tempo e quando facciamo qualcosa di brutto c'è qualche brutta brutta cosa se uno sta ricoperato in ospedale presumo che il tempo non passi mai passi molto molto lentamente quelli erano brevi e qui possiamo concludere dicendo che sì non è da tutti avere la presenza ovviamente sensibile di Gesù di Maria San Giuseppe proprio se uno volesse fare il peccato di invidia della grazia altrui su San Giuseppe se può scatenare più che altro bisogna dare le grazie di essere contento bisogna dire beatissimo tema senza nessun tipo di invidia e bisogna anche considerare quanto santo potesse essere perché spero che questa cosa l'abbiamo capito e Dio le grazie di questo genere non le fa se non a chi sta in condizione di poterle ricevere non le fa fino a 5 pallino tutti quelli che fanno discorsi scellerati sì il verbo si è fatto carne perché è un'umiliazione proprio che non si sa no? anche se non avesse sofferto sarebbe stata un'umiliazione che proprio non si sa eh ma si è fatto carne in quale grembo scusate ha fatto un miracolo per 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 impedire che quel grembo fosse anche contaminato da una cosa che è dove non c'entra la volontà cosciente e consapevole ma che purtroppo contamina noi abbiamo sta cosa e poi era Maria cioè cioè non ma con gli angeli del cielo sono in grado di conoscere e sondare la santità di Maria Santissima non sono capaci la vedono ma non sono capaci di misurarne l'estensione e nessuno di noi è capace se si prova a fissare lo sguardo su Maria non è abbagliante certamente come il sole divino che Gesù ma i padri la chiamavano la luna bella come la luna sì però un po' abbaglia anche la santità di di Maria perché appunto non è abbaglia nel senso che non è conoscibile e contemplati per quanto possiamo pensarne di bene ed è sempre molto ordinario quello che possiamo dirne e pensare bene quindi procuriamo di stare il più possibile non ce li abbiamo la presenza sensibile ma possiamo e dobbiamo trovare i modi per stare in loro compagnia e i nostri giorni saranno tutti brevi e la nostra vita sarà felice anche se fortemente e grandemente tribuna che non ce v v v v v v v v v Grazie. Grazie. Non ho fatto quello che ci hai detto ma un grazie speciale è di aver nominato Maria Santissima Consolatrice degli Affitti e di averla creata come l'hai creata. Basta solo pensare come diceva San Bernardo a Maria perché la nostra mente sia libera, il diavolo scappi, le passioni si calmino, i turbamenti si planchino, eccetera. Ecco le parole del suo cantico e magnifico come sempre ti ringraziamo per questa meditazione. Magnificat anima mea dominum ed exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Grazie. 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 Grazie.